Carissimi amici, ascoltatori e telespettatori, siamo tornati in Sabina, in questa terra meravigliosa. Siamo stati invitati dal sindaco di Cantapu in Sabina, il nostro carissimo Paolo Rinaldozzi, anche l'assessore alla cultura che ci ha invitato per poter parlare con una grande donna. Sono arrivata qui, ho trovato veramente l'idolo della mia vita. Ho seguito tutti i film, da quando sono piccola piccola fino ad oggi, lei veramente sarà una grande, da Fellini a oggi, meravigliosa. Milena Vukodic, eccola a voi. Buonasera, buongiorno, buon tutto. Oggi un premio speciale dedicato alle donne, perché qui in questo paese bellissimo, in mezzo al verde, si manifesta ogni estate un qualcosa che rappresenta il cinema, ma al femminile. Quindi una donna veramente incredibile che ha ottenuto questo premio importante. Sì, sono veramente molto commossa di ricevere un premio che parla poi della donna come madre, come moglie e questo posto veramente magico. Ecco, sono grata dell'ospitalità e di tutta questa bella serata che c'è stata. Veramente bello, stare tutti insieme, tanta gente che ha partecipato. Abbiamo ascoltato questo rumore meraviglioso delle cicale, in un contesto davvero bucolico. Abbiamo ascoltato tante belle cose, un'intervista meravigliosa. Poi noi abbiamo seguito anche la premiazione dei Davide di Donatello, quindi un qualcosa di veramente sentito, una dedica importante alla vita, alla bellezza della vita. Quindi noi non possiamo far altro che complimentarci con lei. Grazie. Ma grazie veramente e speriamo di vederci presso, perché questo è il nostro lavoro, no? È un lavoro di comunicazione di tutti i generi, per cui finché possiamo incontrarci, vuol dire che la vita continua ed è un grande privilegio. È vero, grazie ancora.